Sì, abbiamo detto in conferenza stampa un libro mastro, il nome è un po' abusato, ma un libro mastro che caratterizza un fenomeno che è quello della corruzione, tenuto da un imprenditore con caratteristiche tipiche della contabilità commerciale, contabile, vera e propria, quindi delle stringhe, dei resoconti, delle sommatorie, dei riporti, proprio una vera e propria contabilità dell'illecito. Un indagamento, ma ci sono moltissimi indagati, era un sistema diffuso. Sui moltissimi non confermo, ci sono altri indagati e stiamo investigando, così come siamo partiti da contesti ampi, stiamo approdando a contesti altrettanto ampi, ma su cui investigheremo. Questo è un punto d'arrivo.